Filiere a sapori marchigiani, abbiamo visto diversi prodotti, ne abbiamo degustati, cose devo dire buonissime oltre che sane, ma cosa manca? Chi ancora non ci ha raccontato la sua storia? La nostra storia è la nostra cooperativa della Badia di Fiostra che raggruppa circa 40 soci che hanno diverse tipologie di produzione, andiamo dalle carni ai vini, ai formaggi, ai salumi e qui oggi presentiamo qualche prodotto della nostra gastronomia, abbiamo presentato la coppa di testa, è un prodotto che è particolare, a tutti non piace, ma noi cerchiamo di fare un prodotto di alta qualità, molto saporito, gustoso. Poi tra i nostri soci annoveriamo anche l'allevamento dell'azienda agricola Fontegranne che oggi presenta del formaggio semistagionato, il cacio magno, è un formaggio semistagionato, quindi di media stagionatura, sempre al latte crudo e questa azienda produce non solo latte vaccino ma anche formaggi di capra, quindi oggi presentiamo solamente il formaggio vaccino. Anche questa è una bella azienda, è una bella realtà, ha diverse produzioni. Il nostro forte come cooperativa è che dal punto di vista delle carni, abbiamo le carni a marchio IGP e bovin marchi, poi anche carni suine, annoveriamo dai nostri soci che hanno il laboratorio aziendale, quindi trasformazione per le carni suine, formaggi, marmellata, frutta e verdura, tutta la parte che riguarda l'alimentare.